la mia mamma è super fortissima la merenda sono più forte io per te che metti il cuore in tutto quello che fai c'è fruttolo con tanto latte e buona frutta è la tua scelta perché il suo preferito e con fruttolo go e il suo tappo apri e chiudi il mio fruttolo lo porto con me fruttolo go se ti piace la frutta mangiala dappertutto